Il direttore sportivo della Fiorentina, no ma il direttore sportivo, è stato il direttore sportivo della Roma che è Daniele Frade mi disse 5 anni fa, mi dico ce l'ho ragazzi, il direttore sportivo della Fiorentina, no ma il direttore sportivo, è stato il direttore sportivo della Roma che è Daniele Frade mi disse 10 anni, 5 anni fa, mi dico ce l'ho ragazzi, il direttore sportivo della Fiorentina, direttore sportivo è stato direttore sportivo della Roma che Daniele Frade mi disse 5 anni fa